Salve amici del Centro Medio Italiano, tempo in miglioramento sull'Italia con l'allontanamento della goccia fredda verso sud. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 26 ottobre. Al mattino locali acquazzoni, specie su Sicilia e Sardegna, tempo asciutto sulla penisola con sole prevalente soprattutto al nord e sul versante tirrenico centrale. Al pomeriggio tempo stabile e generalmente soleggiato salvo qualche addensamento specie al sud. Ancora locali precipitazioni sulle isole maggiori, cieli ancora generalmente sereni su tutta l'Italia sia in serata che in nottata, residui e piogge solo sulla Sicilia. Dando uno sguardo alle temperature, le minime sono attese in diminuzione mentre le massime tenderanno ad aumentare. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.